Dal nuovo porto di Tremestieri alla nuova via Don Blasco, poi ci sono i fondi per la nuova stazione marittima, quelli del master plan, i soldi per le scuole, quelli per lo sbaraccamento. Il nuovo sindaco dovrà gestire appalti per centinaia di milioni di euro. Parola d'ordine, tenere fuori cemento depotenziato e mafia. L'ultimo appalto del porto di Tremestieri, così come hanno evidenziato le inchieste della magistratura, non è stato esente da infiltrazioni e da cemento da due soldi. Un compito difficile, quello a cui sarà chiamato in prima persona il nuovo primo cittadino, dovrà scegliere gli uomini giusti da mettere al posto giusto, dovrà fare quadrare i conti, dovrà fare chiarezza sui 500 milioni di debiti fuori bilancio e su quel piano di riequilibrio a 20 anni bocciato dall'aula. Dovrà decidere cosa fare del tram, che adesso funziona meglio ma perde soldi ogni giorno. C'è poi il nodo irrisolto della raccolta della spazzatura, che ha ancora dei costi altissimi, la raccolta differenziata arriva a percentuali troppo basse. Occorre mettere a posto il sistema fognario ridotto ad un colabrodo, l'acqua resta una spada di damocle sulla testa dei messinesi. Il lavoro e quindi la grande emorragia di giovani, un problema su cui il comune deve mettere mani, creando le condizioni affinché le imprese trovino terreno fertile. Ultime ore di campagna elettorale, poi silenzio per 24 ore. Alle 23 di domenica lo spoglio, il risultato sarà rapidissimo. TCF accenderà come al solito i riflettori a partire dalle 23. Diretta non stop, sino all'ultimo voto.